Io farò poco, il più lo dovrete fare voi, ringrazio chi ha accettato di metterci la faccia che è una mamma e non un genitore uno, due o tre, quindi ringrazio Giorgia con cui abbiamo deciso di giocare questa battaglia che non è una battaglia capricciosa o egoista, è una battaglia di cuore, sia da parte sua che si mette in gioco sia da parte mia che mi son sentito dire di tutto non tanto da Berlusconi quanto da qualche fenomeno che lo circonda che se si presenta non piglia neanche il voto dei suoi parenti, perché ce lo diciamo sottovoce il problema più che Berlusconi è qualcuno che lo mal consiglia lì intorno, però faccio finta di non averlo detto e di non aver parlato davanti a nessuno quindi ringrazio Giorgia.